Ciao, io sono Johnny95 e oggi siamo su Defender. Sono arrivato al livello 50, naturalmente non ci ho messo tutto questo tempo ad arrivare fino al livello 50, ci ho giocato poco, solamente per arrivare adesso per registrare, insieme a voi, il livello 50. Non so cosa andremo ad affrontare, però sarà difficile, comunque scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa che volete vedere sul canale, se c'è qualcosa che mi interessa, che io cercherò sempre di portare quello che vi piace a voi, quindi mi raccomando spolliciate. Detto questo, adesso non so quando uscirà questo video, se uscirà lunedì, forse sarò riuscito, forse riuscirò a registrarvi un altro episodio, un altro, un altro qualcos'altro per mercoledì. Adesso vedrò dai miei impegni, dal mio tempo che ho a disposizione. Dai, direi di fare questo livello. Ok, mi sono potenziato un pochino, quindi ora sono un po' più abilitato, però adesso al livello 50 potrebbe esserci qualcosa di speciale. Questi, questi maghi che tienono le cose da lontano vi danno veramente fastidio. Allora. Vediamo, dobbiamo cercare di vincere senza perdere troppa vita, perché poi voglio avere il bonus. Ecco, arriva il boss, arriva il boss, attenzione. Un drago! No, 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 aspetta. Eh, ho già perso. Perché manda anche le truppe adesso, eh. Non c'è solo lui. Eh, mi viene pure addosso. Sì, ciao. No, non tirare col raggio. No, non sparare perché è già... No, no, no. Oh! Attenzione. Mi fa del male questo. Eh, non c'ho più energia per fermarlo. Non ce la faccio. È troppo... È troppo forte. Comunque siamo qua solamente per vedere i progressi. Quindi, se non riuscirò a passare questo livello durante... Durante questo video ci proverò poi off camera. Allora, vai che danneggiamo tutto. Vai, 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 butta giù tutto. Ma sei pazzo? Sì, vabbè, ciao. Eh, mi batte. Mi batte perché... Non ce la faccio. Poi ci sono anche i nemici. Cioè, devo fermare anche loro. Il drago è invincibile. Cioè, non posso distruggerlo. Al mio livello non ci riesco. Devo migliorare. Devo migliorare perché non ci riesco così. Ho 3.800. Potrei potenziare. È fatta blu. Che mi sblocca multiple arrow. Blu che ha il doppio damage. Quindi è meglio, però... Secondo me adesso mi serve potenziarmi... Il danno... E la velocità. 11-11. Adesso non so... Se andrà un po' meglio. Se vinco, sblocco il nuovo a balestra. Probabilmente se si scioppa... Per forza si... Si vince perché scioppi le cose. Guarda che danni che mi fa. Cioè, è incredibile. Io dovevo trovare il mana perché mi serve per il drago. Perché se no non lo buttiamo giù. Allora... No, non sparare. Ok, vai, 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 vai. Danneggiamolo. Finché riesco. Ha perso metà vita, ma adesso mi spara un draggio e mi ammazza. Eh, vabbè, ciao. Eh, un'altra volta. Eh, vabbè. È proprio infame questo drago. Cioè, proprio... Questo drago con lo stregone sopra. Eh, che possiamo fare? Li proviamo. Cioè, non è che posso... Eh, comprare cose. Quello che potranno spendere l'abbiamo speso. Potrei spendere in gemme. Ma voglio risparmi alle perché mi servono per un potenziamento che in futuro mi darà un grande sprint. Mi aiuterà moltissimo quel potenziamento. È una nuova palestra ultima e mi serve. È una nuova palestra. Eh, vabbè. Ho già finito il mana. Lo so fare io. Cioè, non è che me ne invento le cose. Eh, adesso mi spara il raggio. Mi toglie un sacco di vita. Eh... Una testata del drago e moriamo. Cioè, sì, va bene. Grazie, eh. Ok, ultimo tentativo. Ci proviamo. Vediamo come va. Comunque farò video solamente su... Cioè, ogni tot livello in modo da farvi vedere i progressi. E non hanno gli avvi troppo. E non hanno gli avvi troppo. Sto qua. Butta giù i maghi. Butta giù le iriccio. Butta giù... Questo. Lo so che i video verrebbero meglio con la facecam, ma... Non... Non dispongo di tale... Funzionalità. Sì, va bene. 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 Io riesco a tenere la magia per il drago. Il mana per il drago. Mi arriva tra una notifica, ma... Vabbè. Lai, dai. Muori. Ficca non mi spara il draggio, già sono me... Eh, per la fine di dire. Ce la faccio, ma... Eh, vabbè. Noi dobbiamo fermarlo, ma... Muore, ma ce la fai a morire? E gli manca poca vita. Lo potrei... Potrei eliminare. E' morto! E' morto il drago! Ovviamente avrei potuto perdere apposta per avere un bonus vita maggiore e delle cristalli in più, ma... Per voi, per il video, ho finito il robot e tutto il mostro, perché ce ne poteva. Usiamo la nuova balestra, che dà Fatal Blood più 2, agilità più 4, agilità più 4. Equip. Da più agilità e, vabbè, più danno doppio, però dà un po' meno... non c'è il potenziamento per il danno, quindi... E' una cosa in meno, insomma. Però, vabbè, arriveremo... Andremo avanti. Ok, il livello 50 l'abbiamo battuto, l'abbiamo battuto in video, sono riuscito a farlo nell'ultimo tentativo che potevamo fare. Quindi, mi raccomando, spolliciate tantissimo per questo bellissimo episodio, che abbiamo passato il livello 50, poi il prossimo sarà forse il livello 100, magari iscrivetevi nei commenti se volete un livello in particolare. Lasciate un commento, condiviateci per aiutare il canale a crescere, iscrivetevi al canale se siete nuovi e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!